Anche se sono tornati in mare, da più di una settimana i pescatori giuliesi potrebbero nuovamente incrociare le braccia per colpa del caro carburante che continua a salire. L'ennesima tegola su un settore in crisi da tempo. Il gasolio è la prima voce di spesa per un'imbarcazione da pesca e rappresenta il 60% dei costi vivi totali, più delle retribuzioni del personale di bordo. Purtroppo il problema rimane, anzi aumentando giorno per giorno i margini sono sempre più sottili e quindi non sappiamo fino a quando riusciremo a tenere duro. Da una media che nel 2021 si era stabilizzata attorno ai 48,60 centesimi al litro si è passate agli odierni 1,10 euro, 1,23 euro con punte di 1,35 euro negli ultimi giorni. Ciò significa una sola cosa, i costi diventano maggiori dei ricavi e quindi uscire in mare è diventato quasi insostenibile. Il problema è che se continua l'aumento ci fermeremo in automatico, anche perché non si può uscire in mare sapendo che ogni giorno ci rimetti soldi. Dipende tutto dal pescato, dai prezzi che si riesce a fare, ma se continua di questo passo purtroppo i tempi sono brevi. Per questo le associazioni di categoria chiedono al governo misure concrete per far fronte all'emergenza, che però tardano ad arrivare. Le soluzioni, quelle che sono state adottate fino adesso sono solo dei palliativi che non risolvono niente, cercano di tamponare e sono totalmente insufficienti. L'unica cosa è mettere un detto massimo al prezzo del gasolio, perché noi chiediamo di avere la possibilità di lavorare e non vogliamo assistenzialismo. Vogliamo soltanto andare a lavorare e avere la dignità del lavoro.